Ciao a tutti ragazzi, sono SuperDX in questo nuovo video, sono qui tornato a giocare a Hellsword Void col personaggio di Hellsword, ok, siamo qui pronti per cominciare la nostra nuova avventura e no, siamo livello 58 e cacchio, noi stiamo qui facendo quindi le quest storia ricordiamolo perché possiamo dimenticarcene, dobbiamo fare un altro dungeon di livello adeguato e il cazzo, io non lo voglio fare più questo dungeon però, e mi tocca per forza l'abbiamo fatto nel video precedente, ho detto non lo voglio fare più, e alla fine l'abbiamo fatto lo stesso ce l'ha contato per fortuna, però ora questa volta dobbiamo farlo di nuovo, che palle, io odio Ran, per i nuovi del canale, perché può capitare che ci siano nuove persone cos'è successo, cos'è successo, ok, è successa roba per i nuovi del canale, voi dovete sapere che ci sono diversi dungeon che io non sopporto e scusate la mia mosceria oggi, ma non sono proprio dell'umore, è giusto però nonostante tutto vi porto il video perché sì, perché vi voglio bene tantissimo e perché anche avevo voglia di registrare, ma non sono dell'umore giusto nel parlare più che altro quindi perdonate la mia freddezza, perdonate la mia mancata simpatia e sì, sono molto logoroico adesso distruggiamo roba no 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 guarda quanto è bella questa skill oh, siamo saliti di livello, sperando che la quest ce la conta lo stesso dovrebbe, perché dovrebbe essere adeguato ancora il dungeon di livello adeguato, però lo spero sempre non si sa mai, questo gioco è strano soprattutto la versione void che è buggatissima come il culo la versione che dobbiamo uccidere ora passeremo anni qui fino a quando lo uccideremo, se lo uccideremo mai intanto dobbiamo anche attivare le carte ma lo faremo nel prossimo settore e non adesso maledetto questo qua che abbraccia intanto facciamo questa skill che è bellissima la C vai, ha funzionato, l'abbiamo ucciso ora, però, questo ti abbraccia sempre, mamma mia quanto è fastidioso quanto è brutto è brutto oh, questi qua però che non morono non morono eh vai, li brucio, li sgretolo tantissimo però sempre da solo sto free dungeon raga, voi dite voglio giocare con te soltanto con te però mi dite voglio giocare con te e poi non ci siete mai online quando sono io ma lo fate apposta, monelli io non registro di notte io alle 10 di sera già a letto sto ragazzi quindi no non è che dite pure che fosse poi direi vabbè ma tu registri di notte non ti vedo mai online non è vero sono sempre online di pomeriggio registro di pomeriggio o di mattina non solo orario però registro o di pomeriggio o di mattina raramente la sera prima di andare a fare le ninne e che cazzo però questo che abbraccia guarda, guardalo scendi bravo che cacchio no 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 ecco lo spadone comunque fra poco arriveremo a livello 60 sperando lo stesso che ce la conta questa quest mi sa che faremo appunto dungeon per dungeon insieme alle epic eh quindi questa serie diventerà anche una serie di epic e no oh abbiamo attivato la carta sperando che questa carta ci sia utile ci sia forte sia forte per quello che dobbiamo fare noi raga io ho fatto qualcosa di incredibile qui ho squasciato tutti tipo in un niente l'ho sbagliato l'ho sbagliato eh no no l'ho preso l'ho preso mamma mia mi spavento in questo dungeon chi è? chi è? ah comunque avete notato ora lo sto guardando perché avesse giocato oppure mi sto sbagliando no no mi sto sbagliando mi sto sbagliando ok pensavo fosse lo stesso del dungeon secret di questo di questo come cacchio si chiama? il dungeon secret di Amel ecco il piano di sopra pensavo fosse lo stesso tipo invece no no quella è la parte di sopra alla quale arriveremo dopo no raga no ho capito io ho capito io cosa intendo basta non vi preoccupate sto parlando da solo no raga mi sto dimenticata la cosa più importante ossia queste eh sì ah eccolo qua che non l'ho attivata le cose della neve che noi dobbiamo consumare sempre ogni video come ho già arrivato 5 minuti di registrazione vabbò voi vedete forse un minuto e e non l'avevo attivata e no ragazzi ci siamo ci siamo? ci siamo vai che l'ho squasciato comunque se non vi da fastidio vorrei che i video diventassero questi almeno di quelli di Elseworld fossero siano no siano il dio i verbi vorrei che comunque i video di Elseworld vorrei registrare di più che cazzo non voglio fare solo video 20 minuti ma almeno allungare a 25 per fare un po' di dungeon che appunto solitamente non riesco a portare ehm per mancanza di di tempo perché alla fine faccio finisco solo che arrivo a un certo punto e faccio solo due dungeon o un dungeon a causa della mia lentezza nel giocare e quindi alla fine non vi porto quindi almeno 20-25 minuti vorrei fare di video e naturalmente quindi verranno 30 minuti di registrazione tra tagli e tutto lo farò scendere a 25 se non vi va se non vi dispiace già da questo video vorrei provare appunto fatemi sapere eventualmente nei commenti se i video più longevi vi piacciono vi piacciono possono piacere o no ecco la bellissima clue bellissimo il cazzo che ora ci darà fastidio non c'è più la mia carta tipo la carta è morta no che falle che muore stacca vabbè che doveva morire comunque qua perché un punto dopo dovrei arrivare al boss o sbaglio ah no dopo sta ma vero che come faccio a dimenticarmi del mio amore ragazzi che cazzo ho fatto dopo sta il mio amore il mio semi boss preferito non boss anche in questo caso semi boss preferito ragazzi per chi non lo sapesse lo vedrete dopo lo vedrete no spoiler wow ammazzato tantissimo ecco è morta tantissimo anche lui no perché voli via perché perché ammazza 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 no non ce l'ho fatta ecco no vabbè questo che fa sta skill strana assurda credo dovrebbe essere la stessa che ho io oppure io dovrei avere quella skill non voglio sbagliare mi pare di averlo già utilizzata che la sostituì con tornado se non ricordo male e tac il mio semi boss preferito ragazzi nonché anche boss preferito non rompete non rompete sono geloso sono geloso devo andare da lui assolutamente dove sei ci siamo rincorsi ragazzi è stato bellissimo ci siamo tipo rincorsi tipo abbracciamoci no vabbè ma sono quegli altri ma chi sono questi vedi che sono geloso sono geloso anche se non la voglio vedere più perché voglio subito salire di livello però mi sa che dobbiamo fare un'altra volta sto dungeon perché è l'unico di livello adeguato perché non ci siamo per livello 60 wow ma che cosa fai come cazzo ti vado no 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 il tornado ora qua perderemo anni perché appunto non riusciremo a combattere contro lui perché per noi è troppo forte guardalo eh però queste skill sono belle sono proprio belle queste skill che ho impostato cioè raga guarda no 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 maledetto no madonna quanto mi mangia mi mangia troppo trasformati no voglio arrivare a 300 di mana che devo fare la skill potentissima no che cazzo l'ho appena detto l'ho appena detto col cazzo che ci arriva a 300 di mana se questo mi colpisce sempre no non ce la farò mai ora devo morire io l'odio io l'odio questo lo ritengo il più difficile cazzo come boss da battere come è possibile cioè per me viene difficile almeno con i personaggi che ho sempre utilizzato cioè l'unica volta che ho trovato semplicità è stato quando sono arrivato con livello 92 con raven blade master lì è stato facile per il resto è stato sempre difficile no cazzo è stato pure la la tortina da mangiare l'avevo cliccata oh vabbè oh che cazzo dobbiamo fare non è che posso stare no 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 ora tu muori ora tu muori non l'ha colpito come mi devo incazzare adesso ma perché perché non l'ha colpito perché perché non ce la faccio più basta non ce la faccio più io mi incazzo io mi incazzo io mi incazzo no tac 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 cu 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 bravissimo ah andiamo a dire ah bravo col tornadino lo facciamo no no però guarda quanto è fastidioso quando fa così che non riesco a colpirlo quanto è brutto quanto è stronzo più che altro no ho sbagliato sono passato ah no sono passato di mezzo all'attacco quindi si yeah l'ho attaccato sono tipo morto per la seconda volta ragazzi sono squale per i nuovi del canale si sono un abbo non so giocare non c'è bisogno che me lo scrivete o se volete scriverlo scrivetemelo ma l'ho già detto nel video si sono una madonna mia questo fa attacchi potentissimi è il set che c'ho vabbè io sto utilizzando il set consigliato cioè quello che mi hanno dato loro quindi no devo farmi un altro set non con questo perché io qua faccio solo le quest storia l'ho detto io sto facendo sto dungeon solo per la storia la per le quest story la storia alternativa perché le epic la faccio sempre solo con in e si dai questo lo facciamo però ah sono saliti livello dimmi che me l'hai contato dimmi che me l'hai contato ti prego non mi fa sbattere tanto tempo qua per fare sempre lo stesso dungeon quanto quanto me l'ha contato ah me l'ha contato 3 su 5 ragazzi 3 su 5 ci siamo quasi siamo livello 60 possiamo andare direttamente a sander quindi sono dungeon un po' più brevi almeno con l'iniziale quindi wow guarda come l'ammazzo guarda quanto ci vuole cioè in un niente va si ammazzato come niente il portale dell'oscurità io all'inizio non pensavo che con una più nuova una più 10 qua fosse così facile ammazzarlo non ero proprio al corrente infatti sono usciti tutti i mostri insieme guardali che carini guardali oh ammazzato il portale wow però il boss ancora non è morto ok bene l'ammazzo l'ammazzo io giuro giuro l'ammazzo io yeee abbiamo vinto tutto siamo forti siamo già sediti di livello cioè io dovevo fare subito questo portale l'oscurità cioè mi fa salire come niente il livello complimenti complimenti questo non vale come dungeon no eh non vale dai dimmi che vale dai per la story dimmi che vale non vale possiamo fare possiamo già comprare l'hyper o no non lo so dovremmo no dobbiamo andare nello shop per andarla a comprare si ragazzi ho comprato l'hyper però ancora non siamo a livello adeguato sia 65 mi pare per poterla utilizzare adesso dobbiamo andare a fare le quest di thunder però ci trasferiamo a thunder anche per un cambio di location vale con noi questi thunder noi dobbiamo fare sempre dungeon di livello adeguato siccome thunder sono l'unici dungeon di livello adeguato che per ora possiamo fare allora noi andremo a fare queste però vediamo story niente sempre 3 su 5 eh thunder thunder cosa abbiamo 60 62 speriamo che me lo me lo conti questo è 61 però già allora niente andiamo a fare carpai ragazzi ma ronna carpai questo è un altro dungeon che odio wow guarda come le ammazzo tutti questi queste focone qua no 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 in modo quanta roba mi ha dato ecco questi quanto li odio stuccellacci brutti che poi si avvicinano e attaccano attaccano vai che ammazzo questi vai col tornado quanto lo amo non l'ho fatto ancora ecco l'ho fatto adesso non ho sbagliato non ho sbagliato mado che sto combina che sto combina che sto combina però quanta cazzo di mana che c'ho guardamolo ammazzo tutti che non sa nessuno ah no è ammazzato quello la è vero l'ultimo non sono belli questi qua con zuccarini piccini piccini il tornado tac aspetta che mi mi trasforma mi trasforma grazie che c'ho tutte le fiamme attorno quando mi trasformo che sono bellissimo sono fabulos quando mi trasformo no 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 aspetta che sto facendo skill a cazzo attiviamo la carta si grande così la carta mi da una mano è vero che sto godendo tantissimo a colpirli però cioè mi viene proprio la cosa tutti ammazzi insieme boom 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 non so se avete mai provato lo stesso piacere tipo quasi erotico no scherzo il piacere quasi è bello quando li senti tutti ammazzare fanno tu 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 quel rumore assurdo che fanno quando li prendi tutti insieme sai che dove è andato questo vado quando scendi ma devo aspettare che scendi vedi sempre se non si è buggato eh meno male che c'ha quello col proiettile magico meno male meno male che ho attivato quella carta se no sarei stato là sai quante volte è successo che si buggavano uuuu no 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 vi ricordi cacca 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 ammazza 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 no 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 ma che cosa fai l'ho preso l'ho preso ma non è vabbè quello poi vabbè il fatto del dungeon non so se avete mai fatto la epic o se sta ancora con la epic dove devi ammazzare prima l'uccellaccio nero semi boss quello negro quello nero scusate scusate e poi l'uccellaccio giallo che è tipo quello là ecco qualche volta non capitava quello più là ecco diciamo quello scuro ecco ma basta sempre ecco sto dicendo wow che cazzo ho fatto questi però questi questi sono belli peccato ammazzarli quelli piccolini certo poi diventeranno degli stronzi uccellacci come questi meglio ammazzarli però mi dispiace che poi non ho capito perché mai ammazzo tutte queste persone cioè non è che sono tutti cattivi è possibile cioè i tracks devono essere per forza cattivi non ci sono tracks buoni dico io boh mi dispiace alla fine fa sti dungeon dovete ammazzare gente perché poverini che poi raga noi prendiamo a scherzo ma questi ne ammazziamo seriamente cioè questi spariscono vanno nell'aldilà boh boh mi dispiace un po' mi dispiace cioè in fondo non è proprio una cosa così giusta cioè noi stiamo combattendo per il bene ammazzando gente eeeh non credo sia una scusa leale nemmeno una rivolta politica tipo degli anni 30 o 40 facevano così ammazzavano gente per potere per prendere posizioni cioè non lo so basta non lo so perché mi faccio sti ragionamenti è un gioco di merda perché mi faccio sti ragionamenti ste cose mi stai prendendo per il culo mi stai prendendo eh è morta la carta è morta la carta ora io come lo prendo a questo secondo te secondo te no ma che cacchio muori guarda lo provo lo devo disintegrare ora è morto è morto via è sparito nel nulla no non mi dire che è rimasto un indietro chi è si c'è essi ma hanno rotto madonna me callino callaino clan vabbè che l'ammazzo e che cacchio però non si fa così guarda come l'ammazzo guarda l'ammazzo tutto tac cioè perdo meno vita qua che è il dungeon precedente che era quello là cioè non il dungeon precedente vabbè intendo comunque quello che abbiamo fatto prima quello dovrebbe essere inferiore di livello no ma che cazzo vedi che il run è proprio forte io non lo so come cazzo è possibile che mi facciano un personaggio così forte un boss così forte a un livello così basso forse perché segna la fine di un'era segna la fine di Elsword quello che abbiamo sempre conosciuto e ci mostra l'Elsword di merda cioè parlo del videogioco di merda che è venuto dopo la saga di Amel che ricordiamo è l'ultima veramente buona aspetta che qua ci ammazza questo ci ammazza però adesso eh ma dai che cazzo dai 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 boom ok aspetta che devo prenderla e parli male parli male dove sei? ah ancora 21 bar c'ha maledetta guarda quanto ci metto no non l'ho preso ma che è un figlio di puta però non si devono muovere quando io faccio le skill uffa non è un non è un come si dice un pvp uffa ok ora ci fa il culo per forza ora moriamo a prescindere cioè moriamo a prescindere eh ma ma che cazzo ok mi sono mi sono resuscitato no mi sono rigenerato volevo dire vieni qua muori no ti prego prendilo quanto mi dà il fastidio che non lo prende eh vabbè vogliamo pure sulle palline qua ma vedi perché non ne scaffa pure un video di 25 minuti cioè dovrei tagliare tutto vai ripissimo eh vabbè facciamo il portale così almeno saliamo di livello andiamo via andiamo via proprio siamo già a livello 62 vediamo se ce l'ha contata la quest story resolution 3 ce l'ha contata ragazzi ce la sta contando sempre quest complimenti ce l'ho tipo ammazzato in 10 secondi contati mentre prima non ce l'ho fatta però eh perché perché sai chi deve ammazzare chi deve ammazzare è morto finito finito vinto complimenti complimenti sono arrivato a livello 63 dovremmo fare il portale oscurità tipo più spesso saliamo di un livello ogni volta che lo facciamo quindi confermiamo che resolution ce l'ha contato adesso dobbiamo fare l'ultima no ah no 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 facciamo è questo è che cazzo cioè abbiamo raggiunto Ena abbiamo raggiunto il personaggio Ena quando è questo che facciamo con Ena solo che con Ena ci mettiamo tipo una vita qua invece ci mettiamo subito vabbè anche per il fatto che con lui facevamo le epic a cazzo pure di cane perché a me l'avevamo saltata mentre qui invece stiamo a fare dungeon di dungeon così solo di livello adeguato però raga mi sa che il video qua lo dovrò tagliare tantissimo per esempio c'è il fatto che non arrivo a 25 minuti qua arrivo di più cioè io in registrazione a 25 minuti l'ho già passati il fatto che questi stronzi usano la protezione non riesco a colpirli cioè ma guardali dai madonna trasformati trasformati e cacchio eh tornadissimo l'abbiamo ammazzati eh no questo Q no no che cosa fai no adesso attiviamo la carta basta wow aspetta Q Q Q Q Q bravo grandissimo grandissimo aspetta no che dobbiamo ammazzarlo però subito subito che qua mi sta stancando troppo e dopo attiviamo la carta giuro dopo dopo questo settore l'attiviamo e andiamo avanti così guarda l'ammazzo guarda boh ma quanto è bella questa skill solo che ci mette assai in tutto ci mette assai non mi piace questo eh l'unica cosa che non mi piace avevo detto dove mette la carta eccola qua la carta Marsa solo che ora devo scappare tipo tantissimo perché mi sono rotto proprio le valle e anche perché fra poco tipo devo uscire quindi devo editare tipo veloce veloce oddio devo prenderlo devo prenderlo che cos'è questo non l'ho mai capito però lo devo prendere ecco mi ha ricaricato tipo tantissimo la vita ah tu 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 no ma la non serve molto contro sti mostri purtroppo serve una skill di eh guarda mi sta prendendo a calci la ragazza ma vedi ma stu bastard no 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 La Q tipo, dov'è? La Q, fai la Q Buu, quando è figa la Q Questi mi prendono a calci da una parte all'altra Eh ma che palle che siete Dai, poi rotola, rotola Q Niente, non faccio niente Che cosa ho preso? Niente, non ho preso niente Ma che c'è? Dico sempre le stesse cose Come non capisco perché siano buggate tutte queste Oh, vuoi dire? Questa è una strada secondo me era Qua si giocava prima Si duellava Invece no, poi l'hanno fatto il aggiornamento di dungeon Non si duella più Solo che è molto ripetitiva, tipo Mark Com'è che si chiama? Ah no, ho detto Mark Com'è che ho letto Mark? È molto ripetitiva nelle parole Tipo fa Oh, cacacacchio Battle chief vegan Aspetto, ho letto vegan o vegan? Oh mio Dio No ragazzi, devo ammazza per fo... Dove sei? Dove sei? L'estate comincia adesso... Ah, non era così Non era così Vabbè, comunque non riesco a ciderlo Ah, l'ho buttato il tornadissimo, tipo Il tornadone Ammazzalo Però come c'è da pure il portale dell'oscurità Anche stavolta così saliamo tipo di livello Di livellissimo Ma perché uso questi Questi vezzeggiativi? Com'è che si dice? Accrescitivi Ecco E' quella Cioè, tre minuti mi sono rimasti di neve attorno Ma come cacchio si fa? È morta pure la carta Chi sta? Ah no, pensavo stavo ad un altro semi boss Cioè, mi stavo incazzando Che già alla fine ce ne sono due E cazzo Questo è l'unico dungeon dove ci sono semi boss Tipo sempre Questi sono altri due coglioni Guardali Questi sono altri due Che dovrei cercare di ammazzarli Subito RR Madonna, li ammazzo tutti Li ammazzo tutti Tuttissimi li ammazzati Q Q Bravo Cazzo Però non mi sono trasformato Pensavo mi ero trasformato No, 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 no Là, là Guarda quanto è bella questa skill Quando li prende e comincia a fare Tu, 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 tu Quando senti tu, 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 tu Significa che qua so cazzi per tutti Mi tocca per forza attaccarli alle spalle Perché questi c'hanno lo scudo E a me dà fastidio Perché non voglio attaccarli alle spalle No, no, no Eh Mi ha per forza fatto usare la tortina No, madonna Quanto brutto Quando si mettono qua sopra Eh no E che cazzo E da, si difende pure Eh, ho ammazzato col taronatissimo Vai Cazzo Ammazziamoli tutti No, ammazzato solo lui da ammazzare Aspetta che voglio usare La skill del tornado qua Il tornadino Poi c'è il tornadone Che è quello là Che vi faccio vedere ogni tanto Che faremo Ah, no, no Adesso no Devo fare la R adesso Dai che lo prendo Guarda quanto è figa questa skill No, 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 no Ecco La Q E adesso la D Eh niente Non faccio niente di danno però Dai che devo salire subito A livello 65 Così mi prendo la L'hyperskill Mi ricordo era 65 Dai, poi così Miniamo anche la Story La Story 3 Resolution 3 Dai come niente Tac, tac Veloce Finiamo tutto Poi Che termini Che termini che mi sto Imparando Mi sto imparando Aspetta, aspetta No, no, no Che cosa fai Bravo Mamma mia questa skill Quanto è bella Anche se adesso L'ha fatto un poco di dannino Vai Che ci siamo salvati a culo alla fine R R R Lo ammazzo Lo ammazzo Ti prego Dai mi devi far venire pochi minuti di video Non mi puoi far venire 30 minuti di video Mi è finito pure il buff Quello Quello Come si chiama Quello del ghiaccio Lì Eh come è finito Ma come cazzo si fa Non è mai successo Comunque abbiamo finito Ragazzi siamo stati veramente forti Dai apri portale d'oscurità Si Terza volta Tre volte portale d'oscurità Saliremo a livello 65 Me lo sento E vediamo se è finito subito la quest Mi pare di si Perché ho sentito T Quindi quando sento T E infatti Resolution 3 L'abbiamo completata ragazzi L'abbiamo completata Ora sicuramente altri 5 dungeon di livello adeguato Per fare la 4 Però prima dobbiamo sbonnare tantissimo qua Dobbiamo distruggere tutto Portale d'oscurità Con quella skill Lo uccido ogni volta No 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 levati Mamma mia questi però Questi ogni volta mi fanno perdere tempo Vi dovete levare Che devo Levatevi così non uscite nemmeno Non morite Non morite È morto È morto il portale d'oscurità Finalmente Che cazzo Ma sai chi è che sta ammazzando chi Chi sta ammazzando chi Ok Vai Adesso è morto È uscito tipo un dente Che cosa è uscito Siamo a livello 65 Bellissimo Devo cominciare a fare sempre Il portale d'oscurità Tipo farlo uscire sempre Ehm Qui clear Vabbè Void Ok Qui clear Vai Resolution Vediamo Do you have finished in preparation Ok Elzord You are plenty strong Sound and knocking came Che sta succedendo ragazzi A me da un fastidio Quando si vede tutto nero Ecco Abbiamo capito tutto Della storia alternativa Questo ci abbiamo adesso Ehm Altri 5 dungeon Quante sono Nella questa storia Ci sta quello Adam Party Comunque siamo alla 3 4 5 6 7 Resolum Oh Quanti sono Quanti resolution story Comunque ragazzi vorrei dire Per questo video è tutto Grazie alla visualizzazione Spero che questo video vi sia piaciuto Commentate se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Ricordate di seguirmi su tutti i social E ciao a tutti ragazzi Ciao 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 Ciao